L'Impero sono i cattivi della galassia. Sono dei terribili stormtrooper, piloti che non fanno prigionieri, inquisitori cacciatori di Jedi e, come da regolamento, non tollerano insubordinazioni né negligenze. La flotta è composta dagli star destroyer imperiali, mastodontiche navi da guerra in grado di trasportare nugoli di cacciatai spaventando a morte gli avversari. Ma tutto questo è nulla rispetto all'arma definitiva dell'Impero. La morte nera, distruttrice di pianeti. In origine, l'Impero era la nobile repubblica, ma il suo ultimo cancelliere, Palpatine, si è autoproclamato imperatore con la promessa di salvaguardare la galassia. L'Alleanza Ribelle si è formata quando è stato chiaro che lo scopo dell'Imperatore era di sottomettere i popoli. Alla fine, i ribelli hanno trionfato, ma era in arrivo una nuova minaccia. Il primo ordine, nato dalle profondità delle regioni ignote. Il primo ordine divenne anche più forte di quanto fosse l'Impero. In che modo ti sapresti opporre al malvagio impero?